sulla questione fiscale. Il Governo si appresta a rendere strutturale la detassazione degli straordinari e la detassazione dei premi di produttività variabili. Allora, noi con questa Assemblea, in rapporto con le scelte della CGL che assieme andremo a compiere nell'Assemblea nazionale convocata per il 5 novembre, noi diciamo anche qui che ci vuole un'operazione per l'immediato ed un'operazione strutturale. Ho già detto sulle casse integrazioni e allora dico anche che sulla tredicesima, che con la cassa integrazione viene fortemente ridotta, noi chiediamo che sulla tredicesima ci sia la detassazione a partire dal 2008 e per il 2009. Come misura straordinaria, mentre sono necessarie misure di carattere strutturali a partire dal superamento della vergogna del fiscal drag, del drenaggio fiscale. Perché non è vero che non aumentano le tasse? Se non vengono modificate le aliquote rispetto all'inflazione reale, automaticamente i lavoratori dipendenti ogni anno pagano più tasse dell'anno precedente. Questa specie di truffa non dichiarata, perché dichiarano che le tasse non vengono aumentate, deve cessare. Si vuole una misura strutturale che reintroduca in modo automatico la rivalutazione delle aliquote per impedire operazioni di questa natura. Ma c'è anche chi deve pagare di più. E allora, la dico così, anche come segnale per il futuro, non sarebbe male introdurre un'aliquota fiscale del 40% per le stock option delle aziende. in modo strutturale, adesso e per il futuro, perché le stock option non sono altro che una truffa legalizzata, che in questi anni ha visto tanta gente arricchirsi in modo incredibile, senza alcun rapporto con la realtà. Le rendite finanziarie. Vanno introdotte le rendite, la tassazione delle rendite finanziarie, portandole perlomeno al 20%, perché non si capisce perché il nostro paese è l'unico paese in Europa che tassa in modo indecoroso, talmente basso da essere indecoroso, le rendite finanziarie, mentre tassa il lavoro dipendente. Ci sono anche degli attivi in una serie di istituti. Penso a quello della Cassa Integrazione, non la Cassa Integrazione in deroga. Su questo devono essere aumentati gli stanziamenti. Ma penso rispetto ad istituti come la Cassa Integrazione ordinaria o rispetto ad altri attivi di casse che riguardano i lavoratori e gli interventi sociali, che abbiamo scoperto che a caso mai vengono utilizzati dal Ministero della Difesa, e cioè per il settore delle armi. Ecco, anche lì ci sono risorse da recuperare. E comunque sia, per essere chiari, ci devono essere le risorse necessarie per dare una prospettiva di vita dignitosa per tutti. Non ci interessa il fatto che qualcuno ci venga a fare i calcoli costa tanto, costa talare. Partiamo da una risposta rovesciata. Se uno rimane licenziato, che cavolo fa la prossima settimana, il prossimo mese? Se uno si ritrova in Cassa Integrazione casomai per tutto il 2009 con 800 euro al mese, come cavolo fa a campare? E se i consumi sono destinati in questo modo a crollare, è evidente che la recessione diventa ancora sempre più grave e si scarica ancora di più sulle nostre spalle e sulle condizioni dei lavoratori. Grazie. Grazie. Grazie.